In questo luogo, sotto le mura di Lucca, la sera del 4 agosto 1944, intorno alle 10, un plotone di soldati tedeschi giustizia a Donaldo May. Donaldo è un sacerdote 32enne, nato nel 1912 a ruota di Capannori e parroco a Fiano di Pescaglia. Qual è la sua colpa? Nei mesi precedenti questo uomo di chiesa ha dato rifugio e ha protetto un ebreo presso di sé, che però non viene riconosciuto quando il sacerdote viene catturato. Soprattutto il sacerdote si è sempre frapposto tra i soldati tedeschi e la sua comunità, gli abitanti del suo paese, sottoposti in quella tragica estate del 1944 a operazioni continue di rastrellamento, di cattura di uomini adulti che vengono deportati per andare a lavorare alle fortificazioni sulla linea gotica. Inoltre sui monti sopra Fiano, sul monte Acuto, ci sono anche dei partigiani, giovani che appartengono in buona misura alla comunità di Donaldo, anche alla comunità di Fiano, che quindi lui conosce. I partigiani lo chiamano più volte per celebrare l'eocarestia, per impartire loro i sacramenti. Donaldo May è anche un oblato del volto santo, appartiene a quella congregazione diocesana della Diocesi di Lucca, che a partire dal 1943, su un mandato diretto dell'Arcivesco Monsignor Antonio Torrini, ha portato avanti un insieme di attività di assistenza alle persone in difficoltà, agli sfollati, un vero e proprio ruolo di supplenza civile che è stato fondamentale per far sì che l'impatto della guerra sul contesto lucchese fosse in un qualche modo attutito. Donaldo May è quindi un sacerdote molto attivo, è sempre in movimento in quei mesi, in quelle settimane, si reca più volte al comando tedesco di Pescaglia per lamentarsi appunto dei rastrellamenti, delle razzie a cui è sottoposta la sua comunità. Conosce, come detto, i partigiani, verosimilmente qualche delatore, sicuramente due ci dicono le carte, forse tre, lo indicano quindi agli occhi dei fascisti, agli occhi dei tedeschi, come un sacerdote bandito che merita appunto di essere arrestato. Questo avviene nel corso del rastrellamento del 2 di agosto. Donaldo May viene portato presso la Pia Casa di Lucca, questo centro di transito e di detenzione di forza lavoro gestito dai tedeschi per tutta la durata dell'occupazione della Lucchesia, dove transiteranno nel corso del 1944 moltissime migliaia di persone. Donaldo viene processato e viene condannato a morte. Prima di morire, sulle pagine bianche di un vecchio breviario, Donaldo May riesce a scrivere delle lettere rivolte ai suoi genitori, al giovane ebreo che è riuscito a salvare, alla sua donna di servizio. Queste lettere che esprimono il senso del suo attivismo di quei mesi, il senso del suo impegno, l'universo motivazionale della sua scelta e sono motivazioni prevalentemente, esclusivamente di natura religiosa, non c'è un linguaggio politico in questi scritti. Dicevo, le sue lettere sono le uniche di un sacerdote che vengono pubblicate dentro questo libro, le lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, fin dalla sua prima edizione, che viene pubblicata dalla casa editrice Naudi nel 1952 a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli. In queste lettere, tra le altre cose, si legge Babbo e mamma, state tranquilli, sono serene in quest'ora solenne, in coscienza non ho commesso delitti, solamente ho amato come mi è stato possibile. Condanna a morte, primo per aver protetto e nascosto un giovane di cui volevo salva l'anima, secondo per aver amministrato i sacramenti ai partigiani e cioè aver fatto il prete. Il terzo motivo non è nobile come precedenti, aver nascosto la radio. E ancora, non più carta all'infuori di questa busta e anche la luce sta per venir meno. Domani festa della Madonna, potrò vederne il volto materno? Sono indegno di tanta fortuna. Anime buone, pregate voi tutte perché mi sia concessa presto, prestissimo, tanta fortuna. Anche in questo momento sono passate ad insultarmi. Dimitte illis, neschunt quid fashunt. Signore, che venga il vostro regno. Mi si tratta come traditore, assassino. Non mi pare di aver voluto male a nessuno. Ripeto, a nessuno, mai, che se per caso avessi fatto a qualcuno qualche cosa di male, Io qui, dalla mia prigione, in ginocchio davanti al Signore, ne domando umilmente perdono. Lettere che, come detto, esprimono il senso dell'impegno di Donaldo May, parole nelle quali il sacerdote prova a spiegarsi il perché della sua cattura, del suo processo e della sua condanna a morte, che viene eseguita dagli uomini della ventesima divisione da campo della Luftwaffe, e quindi un reparto dell'esercito regolare tedesco. Dalla Pia Casa, come detto, la sera del 4 agosto, Donaldo May viene tratto fuori, percorre via Elisa, viene condotto in questo posto e qui viene fucilato. Il corpo verrà recuperato la mattina dopo. La sua è un'uccisione esemplare, è un messaggio che i vertici del sistema di occupazione tedesco della città vogliono dare anche all'arcivesco, a Monsignor Antonio Torrini, che inutilmente si è attivato per provare a liberare Donaldo May, perché ampi spezzoni della Chiesa di Lucca in quei mesi hanno giocato un ruolo plurale, corale di resistenza civile, proteggendo gli ebrei, proteggendo i renitenti, portando avanti un'opera sistematica di tutela della popolazione civile, appunto di resistenza civile, per esempio gestendo tutta una rete di comitati alimentari, distribuendo il cibo in maniera assolutamente democratica. Un insieme di attività che sono bastate a qualificare la Chiesa di Lucca come una Chiesa avversa, prima agli occhi dei fascisti e poi agli occhi dei tedeschi, che con l'uccisione di Donaldo May cominciano una politica sistematica di caccia ai sacerdoti che andrà avanti per tutto il mese di agosto di quel terribile e tragico 1944.